Bentornati e bentornate a TG Veroneconomia, vediamo le principali notizie che hanno caratterizzato la giornata di oggi. Partiamo da una notizia di economia importante, dal PNRR nel veronese 50 milioni per tutelare l'acqua, mix di tecnologie innovative per digitalizzare le reti e ridurre le perdite, fondi anche per la depurazione ad Affi, Peschiera e Verona. Un intervento che è stato presentato oggi, era per noi lì presente, Alessandro Bonfante, vediamo il servizio. Mi trovo nella sede del Consiglio di Baccinoato veronese dove questa mattina è stata presentata la serie di finanziamenti dal PNRR che arriveranno sul territorio scaligero, in particolare interventi per 50 milioni di euro circa, soprattutto sulla digitalizzazione della rete acquedottistica con gli interventi di Acque Veronesi e azienda gardesana Servizi. Sentiamo. Sono fondi intanto ragguardevoli perché parliamo di cifre intorno ai 50 milioni di euro a fronte di progettualità per 85 milioni di euro. Riguardano la digitalizzazione delle reti oltre ovviamente anche a, in forma minore, interventi sui depuratori di Affi e di Bussolengo e di Peschiera. Tuttavia la parte dell'elone la fa la digitalizzazione della rete perché consente sostanzialmente la individuazione in tempo reale delle perdite di rete. Sappiamo quanto l'acqua è importante. Adesso in questo momento non ce ne rendiamo conto che viviamo un momento invece di forte tensione idrica in forza degli allagamenti, delle precipitazioni copiose, ma ricordiamoci solamente due anni fa, un anno e mezzo fa, che la siccità ci stava sostanzialmente creando non pochi problemi. Questi interventi andranno a correggere una perdita fisiologica di rete che è intorno al 35% che è ancora particolarmente elevata e di conseguenza noi non possiamo che rallegrarci come Ato e ringraziare per questo importante risultato le due aziende di servizio Acqua Veronesi e Gardesana Servizi perché è stato grazie al loro proficuo e costante lavoro che si è arrivati ad ottenere questo importantissimo risultato. Per quello che riguarda Acqua Veronesi abbiamo un progetto da oltre 30 milioni di euro, di cui 22 finanziati appunto dal Ministero delle Infrastrutture con supervisione di Ato, andremo a realizzare un sistema complesso di digitalizzazione della rete idrica attraverso strumenti di misura di gestione della rete, in particolar modo penso ai 70.000 contatori intelligenti che andremo a installare soprattutto nella città di Verona. Questi ci permetteranno di avere anche una significativa variazione in quelle che sono le attuali modalità di gestione, quindi potremo avere una telelettura da remoto migliorando anche la tempestività delle letture e quindi riducendo anche la presenza proprio di personale viaggiante sul territorio. Questi interventi permetteranno di ridurre le perdite idriche, ridurre i consumi energetici, emissioni di CO2, ma anche di limitare gli interventi di manutenzione sul territorio, quindi porteranno poi anche un impatto positivo sulla viabilità. Presidente, quali sono gli interventi finanziati sul territorio dell'azienda gardesana a servizio? Intanto portiamo a casa 19 milioni dal PNR e sono divisi in tre interventi. Il primo, più significativo ed importante è la digitizzazione che faremo della ricerca perdite, che per noi significa recuperare 4 milioni e 400 mila metri cubi d'acqua e significa risparmiare in cinque anni 3 milioni e 600 mila euro che riguardano appunto il risparmio energetico. Questo è il vero obiettivo. Il secondo riguarda il nostro depuratore di AFI, dove abbiamo già iniziato i lavori, li finiremo entro il 25, riproporremo una risposta puntuale alle aziende dell'area e anche ai cittadini, togliendo quella puzza odorifica che oggi, devo dire, è molto fastidiosa. Il terzo elemento è un contributo di 3 milioni e 800 mila che abbiamo ottenuto sul depuratore di Peschiera, ecco, su una spesa di 11 milioni e 500 mila che faremo. Anche lì, migliorando il sistema delle vasche, che significa soprattutto determinare un sistema di maggiore efficienza e creare le premesse per far diventare ancora più pulita l'acqua che metteremo nel fiume Mincio. Federazione Veneta delle BCC, delle banche a credito cooperativo. Vediamo da sito veroneconomia.it la foto del presidente Flavio Piva che ricorda come siano stati stanziati 18 miliardi di impieghi tra le varie associate. Lunedì 3 giugno a Vicenza l'assemblea annuale della federazione che servirà per fare il punto delle 9 banche associate. erano 10, ovviamente con la fusione di BCC Verona e Vicenza e Banca Patavina ne è sparita una, è nata BCC Veneta. Questa federazione insomma mette insieme numeri ragguardevoli e si svolgerà tra l'altro l'assemblea festeggiando anche i 700 anni della morte di Marco Polo, veneziano simbolo. durante l'assemblea dicevamo saranno votati il bilancio 2023 dei risultati aggregati delle BCC Veneta. Insomma il totale attivo in forma aggregata delle banche appunto associate si attesta a quota 22,8 miliardi di euro. La raccolta della clientela raggiunge i 16,2 miliardi con il dato sulla raccolta complessiva che sale a 27,2 più 7 per cento circa con 18 miliardi di impieghi. Insomma dicevamo rimane forte il sostegno all'economia locale e alle imprese. Il margine di intermediazione cresce da 671 milioni di euro del 2022 a 788 milioni di euro registrando un più 17,3 su base annua. Insomma risultati davvero importanti. Sulla definizione invece della impresa femminile cambiamo argomento. Sappiamo che lunedì scorso c'è stato l'incontro in Camera di Commercio. Abbiamo avvicinato Vincenza Frasca, la vediamo qui, che per prima diciamo ha in qualche modo proposto non solo sul territorio nazionale ma anche a livello europeo questa proposta di dare una nuova definizione di impresa femminile. Sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato. Presidente Frasca, fu lei già qualche anno fa insomma tra le prime a lanciare il sasso di una nuova definizione di impresa al femminile. Oggi c'è una rete attorno a questo tema e oggi siamo qui per ribadirlo. Assolutamente sì, infatti il primo sassolino è stato lanciato dalla sottoscritta ma quello che mi riempie di orgoglio e dirlo soprattutto all'interno della nostra Camera di Commercio di Verona è che proprio è tutto nato nella nostra città. È vero attraverso la sottoscritta che sono scritta appunto anche associata a Confimi App Industria Verona e anche grazie al supporto della nostra Università d'Eccellenza Scaligera al Dipartimento di Scienze Giuridiche. Quindi questo ci riempie di orgoglio e quindi questo grande progetto che oggi è di rispiro europeo non dobbiamo dimenticare che comunque ha il cuore giallo-blu. Perché è così importante dare una nuova definizione al concetto di impresa femminile? È importante perché per evitare possibile concorrenza fra ordinamenti, faccio un esempio, quando l'Europa mette a disposizione dei fondi a favore dell'impresa femminile, se non definisce cos'è impresa femminile, ogni Stato membro andrà a incamerare i fondi e gli aiuti in base alla propria legge nazionale. Non dimentichiamo che ci sono alcuni Stati anche che non hanno una norma in tal senso. Noi ne abbiamo una, lo sappiamo che è da novellare, perché dopo magari è un discorso un po' più tecnico, però è anche importante definire a livello europeo perché? Perché quando noi leggiamo statistiche tipo che ci vedono magari ai secondi, terzi, quarti posti, sono statistiche errate, perché se non c'è una definizione comune, come possiamo avere delle statistiche sull'imprenditoria femminile? Quindi è un concetto errato, quindi questo ci dimostra come noi siamo fortissimi, il nostro paese è fortissimo, è giusto che si prenda il ruolo che merita, ma come? Attraverso un diritto più trasparente e anche e soprattutto bisogna studiare per capire di più. Ecco, questa è una cosa importantissima che dico ai giovani, studiate, perché se studiate la vostra mente si apre, potete fare proposte e possiamo veramente posizionare il nostro paese nella posizione che merita, tra i primi posti. Lei ha incontrato anche alcuni membri del Parlamento europeo in questi anni, a che punto è l'ITER allo stato attuale? Allora l'ITER ancora con grande orgoglio posso dire che siamo stati il primo paese in Europa a sollevare questa tematica, stiamo tessendo relazioni profonde con le varie associazioni datoriali in Unione Europea, stiamo tessendo anche relazioni con i parlamentari della appena passata legislazione e del nuovo Parlamento, affinché appunto questi nuovi politici o anche confermati politici si prendano a cuore questa battaglia che stiamo portando avanti. È chiaro che noi dovremo preparare o presentare comunque una proposta di definizione che dopo verrà discussa insieme a tutti gli altri paesi membri. E questa era l'ultima notizia, ci vediamo alla prossima edizione.